Eccoci qui cari amici di Viene a Vivere all'estero, buongiorno e benvenuti, questo è l'ultimo video di febbraio 2021 per quanto riguarda questa casa che sto lasciando proprio questa mattina. Allora, velocissimo qui per dirvi che ho un'intervista che ho appena fatto con il buon Lochman, come mi insegnano a pronunciarlo, con quella intervista abbiamo visto argomenti un pochino meno canonici, io metto sempre il fulcro su come vi troverete, come fare a trovare lavoro, cosa dovete fare, chi dovete essere e qui invece abbiamo parlato più di Irlanda in generale, tra mito, leggenda e argomenti proprio molto di nicchia diciamo. Quindi se siete curiosi e volete passarvi una mezz'oretta diversa, spero piacevole, devo ammettere che chiaramente non ero preparatissimo su tutte le domande perché è anche, magari su certe cose non è tantissimo il mio genere, però mi sono, ho avuto modo insomma di dire la mia, quindi grazie a Lochman per questa intervista, grazie a tutti quelli che l'hanno già guardata, mettiamo il link sotto e da lì vi auguro una buona visione. Grazie e noi ci vediamo nei prossimi video, avrò tanto archivio ancora, mischierò video magari fatti in Italia e fatti in Irlanda e a presto, ci vediamo presto, ciao!